Sono lettere di minacce che arrivano al Ministero, se ne sta occupando la Guardia di Finanza, continuo a lavorare con serenità. Così il Ministro degli Esteri Antonio Tajani sulla vicenda della lettera minatoria è arrivata alla Farnesina e sale la tensione dopo le proteste degli anarchici. Non mi faccio intimidire dalle minacce, ha detto l'esponente forzista del Governo che ha rafforzato intanto i controlli di protezione di tutto il personale dell'edificio, verifica della corrispondenza e di ogni materiale in entrata nella sede di Roma. Stesse misure adottate anche nelle sedi della rappresentanza italiana all'estero. Al Ministro Tajani solidarietà Bipartisan.